Allora bene, nel qualsiasi si accoglie bene e da qui, senza allargare troppo, si porta vicino al colpo. Quindi immaginate di avere l'avversario qui, più accorto a distanza, quindi non si può allargare, si può solo fare questo, raccogliere e complicare. Ok? Facciamo un po' di veloce, andiamo a destra. Ecco, il capotetto è un piatto, la testa. Ma è andata. Come fuì?